Sabato 17 febbraio il complesso sportivo calvese Open Sky è stato la sede del primo incontro di un innovativo progetto di collaborazione tecnica tra la Società Sportiva Operante, Centro Noto Sporting e la Società Sportiva Laurentina, l'Arcobaleno. Grande l'emozione dei partecipanti che hanno aderito al progetto sportivo notatorio innovativo, come pochi altri già realizzati con l'obiettivo di instaurare una collaborazione tra i due staff per programmare e realizzare un percorso tecnico formativo volto ad implementare il background motorio notatorio degli allievi. La passione, l'entusiasmo, la dedizione e la competenza sono le fondamenta delle due società che quotidianamente operano nel meraviglioso mondo dell'acqua e che con dedizione pongono le basi per la crescita sportiva degli allievi. Grazie a questa collaborazione gli atleti allievi dell'Arcobaleno potranno gareggiare con quelli dell'affermato Sodalizio Calvese, seguendo lo stesso percorso magari anche nel circuito fin a partire dal settore propaganda. Gli atleti continueranno a praticare le attività nelle rispettive strutture e ad essere seguiti dai rispettivi struttori coach, ma si confronteranno con cadenze variabili a seconda delle esigenze. Un'iniziativa che insieme punta a valorizzare i giovani talenti e l'intero movimento notatorio provinciale, ponendo particolari attenzioni alla scuola nuoto, caposaldo essenziale per applicare i fondamentali tecnici propri della scuola nuoto federale, marchio Total Quality della Federazione Italiana Nuoto. Il collegiale è strutturato in modo che si possa estendere anche ad altre attività notatorie come la palla nuoto e valutare la possibilità di praticare le varie discipline previste dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto. Nella nota finale il ringraziamento dell'istruttore Giampiero Sauchella, la dirigenza dell'Open Sky e ai tecnici delle due società per aver reso possibile questo collegiale.